Arezzo è pronta a rendere omaggio al suo patrono, Sandonato, l'apostolo della Tuscia, che con la sua opera di annuncio del Vangelo ha convertito questo angolo di Toscana. Le celebrazioni inizieranno domenica 6 agosto alle 17, quando il concerto Le Ore d'Organo proporrà musica sugli organi della cattedrale. Si tratta del primo concerto che inaugura un nuovo appuntamento fisso che si ripeterà tutte le prime domeniche del mese in concomitanza con la fiera antiquaria. Alle 18 poi la messa preseduta dal Vescovo Riccardo Fontana, seguita alle 21 e 15 dall'offerta dei ceri votivi da parte dei comuni della Diocesi. Come ogni anno, la cerimonia sarà seguita da uno spettacolo pirotecnico a cura del comune di Arezzo. Il giorno seguente, Solenità di Sandonato, le celebrazioni si aprono alle 7 con le lodi e la messa in cattedrale. Si ripeteranno poi alle 8, alle 10 e 30 e alle 12. Alle 11 il Vescovo Andrea Migliavacca sarà invece alla pieve di Santa Maria che custodisce un busto reliquiario del Santo per una messa. Tra le varie iniziative quest'anno ci sarà anche l'intitolazione a Sandonato della terrazza del Palazzo della provincia di Arezzo. Culmine della giornata, la celebrazione liturgica preseduta dal Vescovo Andrea Migliavacca alle 18 nella cattedrale di Arezzo. Grazie. Grazie.